carissimi ben ritrovati a good shopping vetrina televisiva a vostra disposizione per pezzi in questo caso di design davvero imperdibili siamo con mojito design e insieme a me ci sono michela e alessandro è un piacere averli qua con noi proprio perché loro rappresentano questa meravigliosa azienda mojito design che produce questa gamma di bicchieri che vedete davanti a noi che vi vado immediatamente a presentare al prezzo di 13 euro e 50 potete portarvi a casa un kit di sei bicchieri che potete scegliere in vari colori nero trasparente giallo fluo fucsia fluo o arancione fluo confezione appunto da sei bicchieri al prezzo di 13 euro e 50 ma poi abbiamo anche dei bellissimi calici questi in due colorazioni bianchi e neri li comprate quando vi arrivano a casa troverete una coppia di bicchieri del colore che voi avreste scelto al prezzo di 11 euro e 90 quindi questi sono i nostri prodotti adesso ve li faccio raccontare direttamente dai nostri ospiti allora alessandro mojito design parlaci della vostra azienda è un'azienda giovane nata appunto nel 2012 e deriva da un'altra nostra azienda sempre che si occupa da più di 30 anni della produzione di componenti in plastica per il settore della moda abbiamo deciso di fare un nostro un nostro prodotto che in realtà sono poi diversi prodotti ed è appunto nata questa idea dei bicchieri perfetto prodotti freschi dinamici adatti sia per l'uso domestico perché questi sono bicchieri infrangibili quindi anche se avete dei bambini in casa che toccano fanno cadere qua davvero non avete problemi ma anche per tutte quelle persone che magari hanno un locale e vogliono spiccare per la qualità dei bicchieri in cui servono i loro cocktail Michele ascolta in che materiali sono realizzati e quali caratteristiche hanno? questi bicchieri sono fatti di polipropilene e appunto sono antiurto antigraffio si possono lavare in lavastoviglia e sono adatti un po' per tutte le occasioni eh già è proprio così e vi faccio vedere che cosa significa realizzare dei prodotti antiurto antigraffio perché si fa presto a dirlo però poi bisogna anche farlo e allora io mi sono portato ai bordi dello studio ho preso uno dei nostri bicchieri e voilà l'abbiamo scagliato per terra a grande forza adesso lo vado a recuperare anche per farvi vedere quanto effettivamente questo sia resistente anche andando a portare il peso del corpo e schiacciando con forza il bicchiere ce la sto mettendo tutta non si rompe questo è grazie all'esclusività del materiale in cui questi prodotti vengono realizzati ma una cosa molto molto importante da dire Alessandro è che questi sono prodotti made in Italy esatto sono tutti realizzati appunto in Italia presso il nostro stabilimento che si trova nella provincia di Modena tutti i materiali utilizzati provengono da fornitori italiani sono certificati ed abbiamo inoltre anche provveduto a fare delle analisi ulteriori in laboratori sempre italiani appunto per garantire al 100% la compatibilità col contatto alimentare cosa molto importante perché ricordate che anche quando andate ad acquistare un bicchiere quando si tratta di made in Italy bisogna passare tutta una serie di procedimenti che rendono proprio questi bicchieri adatti al consumo del cosiddetto food quindi tutto ciò che viene ingerito dal nostro organismo tra l'altro bicchieri veramente comodi molto pratici occupano pochissimo spazio possono essere lavati in lavatrice sì possono essere lavati naturalmente in lavastoviglie ma possono anche essere messi all'interno del microonde per scaldare le nostre bevande tra l'altro il materiale è isolante quindi mantiene la temperatura e allora vi faccio rivedere i nostri prodotti al prezzo di 13 euro e 50 vi portate a casa un set di 6 bicchieri a voi sta soltanto scegliere il colore da voi preferito o perché no anche fare due ordini con due colori differenti quindi bicchieri da cocktail 13 euro e 50 oppure due calici anch'essi per cocktail differenti ma anche per altri usi nelle colorazioni bianche e nere due calici al prezzo di 11 euro e 90 www.goodshopping.tv grazie per essere stati qui con noi e mi raccomando approfittatene grazie per la visione